Poi abbiamo studiato, abbiamo organizzato che sotto i gelsi, sotto le piante i tedeschi avevano portato tanta munizione, c'era addirittura la munizione del mitra italiano che noi non avevamo, che cercavamo con i denti proprio perché avevamo le armi e non la munizione. Lì abbiamo studiato che c'era la munizione anche del mitra, bazooka e altre armi, però noi c'è di bello che non abbiamo mai dato dei guai per bruciare le case per la presaglia. E allora anche lì si prendeva cacciavite, si aprivano le cassette, si toglieva la munizione, si pesava, poi ci mettevamo tanta terra dentro, poi si tornava a invitare, i tedeschi hanno portato io le cassette con la terra dentro, al fronte.